Pro, andiamo a vedere gli highlights, perché insomma sabato si è ancora giocato, c'è anche chi si è arrabbiato. Un miliardo di volte abbiamo tirato, bisogna vedere se me le ricordo tutte. Eh, andiamo a vedere, dai, ecco qui la partita. Allora, noi ovviamente siamo quelli tutti colorati di Granata, fronti via, sgrigna sulla traversa, c'è la deviazione determinante da parte del portiere, non è passato un minuto di gioco, bellissima la deviazione al volo del Granata. Poi il controllo e il tiro di Antenucci, pallone che resta centrale. Un toro che parte forte e cerca di far su alla partita, che vedete però, porta anche dei sorrisi, chiaramente quello di Verdi. Qui il colpo di testa di Darmian che attraversa tutto lo specchio esce, l'Albino Leffe si vede con questo traversone di girasole, poi il tocco dietro per Cocco la deviazione in calcio d'angolo, con Gomis bianco vestito al suo esordio. Attacca ancora il Torino, il pallone a girare con la grande conclusione dalla distanza, pallone che termina alto di non più di un metro, su questa bordata di Masiello, anche lui all'esordio. Poi il tentativo per trame centrali, libera il destro sgrigna e questa volta ancora il portiere alza, sopra la traversa, un pallone che sembrava destinato all'interno dei pali. Lo rivediamo da queste immagini, la palla è certamente all'interno della porta, la smanacciata del portiere d'Albino Leffe è determinante. Ci prova ancora il Toro, D'Ambrosio toglie dalla piede di Antenucci quella che poteva essere una volée verso la porta, poi ancora Torino in attacco con la conclusione di Verdi, forse un po' egoista nella circostanza, gran voglia di giocare da parte di questo giocatore. Questa è l'immagine che ci porta alle note negative. Suciu si fa male, ahimè ancora una volta, al ginocchio già operato dal dottor Misischi per il crociato. Gli facciamo ovviamente i migliori auguri per il buon proseguimento della sua carriera. Poi ci prova ancora Verdi sulla destra e il suo tiro a giro di sinistro gira poco, resta centrale e trova la parata da parte del portiere. Qui la conclusione è esterna rispetto alla porta, dunque l'Albino Leffe si salva. È un Toro che dà l'impressione di poter segnare da un momento all'altro, anche con questa percussione di Antenucci, la rete non arriva. Man mano che passano i minuti, forse i Granata si rendono conto che il campionato ufficialmente lo vincerà in Pescara, nonostante questa ulteriore opportunità sottomisura da parte di Verdi. Verdi poi imbecca ancora all'interno dell'area, sgrigna, nuovo, traversone al centro, abbiamo visto almeno quattro azioni gestite in questa maniera e ancora una volta la deviazione. Poi tenta la volea Antenucci, sottomisura ancora la deviazione da parte dell'Albino Leffe. Noi possiamo andare credo all'infinito con queste immagini a testimoniare quanto il Toro abbia meritato di vincere una partita che poi sostanzialmente non era così importante, perché è vero che arrivare ai primi fa piacere a tutti, però la cosa fondamentale... Sai che ti risponde subito Adril che dice sono full bond, ho visto che il gol di sgrigna era buono, ci hanno derubati ancora una volta. Direi Adril che tutto sommato, insomma, ne abbiamo visti anche di peggio, ecco. E poi soprattutto in questo caso poco male, credo. Anche se anche Giancarlo si schiera in questo senso, passo così dai messaggini alle mail, Giancarlo, 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 l'ho perso, ma comunque eccolo qui, dice peccato, potrebbe essere la ciliegina sulla torta e avremmo alzato anche noi la nostra coppa, che non sarà la Champions, ma comunque avrebbe avuto un suo significato. Voti, 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 Andrea Max da 10 con lode a Gabriella. Oh, lei! Come mai? Come mai? Non lo so e non oso chiederlo all'Ambra Max. Ma scrivo io! Allora, Alberto, nel frattempo ci sono tante domande, noi te le giriamo tutte, guarda. Allora, la prima è questa. Dove si svolgerà il ritiro del toro? Chiede Pietro. Allora, intanto il ritiro del toro... È allo studio. È un progetto. Cioè il toro si ritira? Fammi capire. La facciamo la serie A, no? Non è che poi rinunciamo. È vero, è vero che in effetti è allo studio. Ah, vedi? Non mi sono messa la lode. Però quest'anno ci potrebbe essere una novità... Non mi sono messa la lode. Eh no, la lode. Eh, la lode. Cum laude. Ci potrebbe essere una novità interessante quest'anno, legata al fatto che potremmo dividere la fase di preparazione del campionato in tre fasi. Quindi una prima fase in altura, è molto probabile, insomma ci sono grandi possibilità che andremo a Sappada, torneremo a Sappada. Una seconda fase di circa dieci giorni nella cittadina di Omenia, dove siamo già stati molto bene l'anno scorso, accolti già l'anno scorso da moltissimi tifosi, quest'anno sicuramente lo saremo di più, comunque ce lo auguriamo. E poi a Mondovì. E poi esatto, un'ultima fase di sei giorni di preparazione alla Coppa Italia, quindi la settimana decisiva per il primo impegno ufficiale. Quella è torna a Ferragosto, per intendersi. Esatto, a Mondovì, con proprio il giorno di Ferragosto, nei giorni immediati di una partita amichevole lì a Mondovì. Una full immersion con la Granda Granata. Esatto, proprio una full immersion con la Granda Granata, io provengo da lì e per me è un piacere, onestamente, tornarci. Allora, tu così hai risposto a tanti amici, non possiamo non citare Eros da Mondovì. Perché vengono a casa tua, perché ci chiedeva proprio questo, Eros è colui il quale aveva dato l'inizio ai voti, i voti di Eros, e stasera non ci ha scritto per i voti, ma ci ha scritto proprio per chiedere del ritiro. Abbiamo un amico però al telefono. Però, un attimo solo, quando ha detto che c'era una novità che forse si faceva in coabitazione, ho pensato che andassimo al 50% con qualche altra squadra per risparmiare qualcosa. In prestito con il riscatto del ritiro. Visto che abbiamo tre, tre spazi. Pronto, sentiamo chi abbiamo. Siete terribili. Pronto, buonasera. Buonasera, eccoci. Sono Davide. Davide, allora come va? Bene, bene. In Serie A ci si sente meglio, anche la telefonata è bella squillante. Allora, intanto dopo la partita con l'Albino Leffe, dopo la partita con l'Albino Leffe, avevo la faccia come radice alla fine della partita col Cesena nel 1976. Però non hai vinto lo scudetto, mi permette di dirtelo. No, ho capito, infatti non ho vinto lo scudetto, quello è vero, quello è vero. Però mi fa piacere, lo stesso sono contento di essere tornato in Serie A, però avrei preferito anche vincere il campionato. Senti Davide, tu stai cercando di svicolare dal quiz, ma vuoi non vincere nulla o no? Voglio vincere lo scudetto il prossimo anno. No, ho capito, con noi non vinci lo scudetto, con noi non vinci niente, nel senso che il quiz non ti dà la possibilità di vincere il premio più bello, niente. Vuoi partecipare? Dai, proviamo. Andiamo a vedere la figurina di questa settimana? Andiamo. Andiamo. Allora, chi è questo signore qua? Allora, Alberto lo sa, non ci posso credere. Insomma, mica tanto. Mica tanto. Lino? Dov'è? Dov'è una penna? Oh, signor. Allora, vediamo, vediamo. Come sempre, il solito, ce l'ho sulla lingua, perché quando arrivi le indovini tutte, poi quando arrivi non le indovini. Allora, mi prendo la birra dal mezzo e ti lascio il foglio. Gabriella è troppo giovane. No, ma poi io lo suggerisco. Non che il signore qui, che... Diamo una mano, Fabri, diamo una mano a Davide. Era un... Era, è, perché ovviamente è ancora giovane, anche se non gioca più. Fabri è un difensore che è uscito dalle giovanili del Toro. Non ha giocato tantissimo. Sì, sì, ma è un difensore delle giovanili del Toro, quello lo so. Con noi non ha giocato tantissimo, ma ha giocato tanto il segnale. Beh, insomma, ha giocato 63 partite, zero gol, oggi compie 38 anni. Dai, allora, vediamo che cosa ha scritto sul pezzo di carta Alberto Baglile, vediamo se Alberto l'ha indovinato. Vediamo, vediamo, vediamo. Cosa c'è scritto, Davide? Eh, non lo vedo. Eh, va bene, Davide, insomma, ti facciamo vedere la figuola. No, eh, aspetta, Falcone, lo vedo. Ed è proprio Falcone, bravo Alberto. Davide non è vinto niente, peccato perché stasera avessi indovinato vincevi uno scudetto. Eh no, poteva vincere un paio di occhiali, ma visto che ci vede bene non è necessario. Aspetti, aspetta, a me mi arrivano in ritardo le immagini. Eh certo, perché sei di Caracas. Comunque, visto che non c'è la Silvia, non la giudichiamo stasera. No, ok. Boh, te con quella camicia del Perugia, però... Ce l'ha con te, proprio. No, no, ce l'ha con te, non con me. Io ce l'ho con Fabrizio Turco. Eh, vabbè, vabbè, dai. La camicia del Perugia. Il POF 10 perché c'è là vicino al vino, al colore del vino la maia. Eh sì, sei de Bordeaux, Granata, insomma. È come un bel barolo, dai. Eh, Alberto Barile, 100 con lode. Eh, vabbè, vabbè. Ciao Davide, con questa. Perché no, almeno abbiamo un giovane, abbiamo quello sì, quello che sta indicando lo stemma sul cuore sicuramente. Perfetto. Ciao Davide. Ci vediamo alla prossima, alla prossima Serie A. Benissimo. Ma ci vediamo anche il prossimo, giovedì prossimo. Ma noi ti aspettiamo il giovedì prossimo, eh. Ma se c'è Silvia, sì, Gabriella è grande, eh, di nuovo, eh, deve tornare. Grazie. Anche perché io ricordo i tuoi messaggi, io ricordo i tuoi messaggi della volta scorsa, quindi... Fabrizio, ehi. Fabrizio, sai cos'è? È che Gabriella non interrompe come Silvia. Ecco, molto bene. Ciao Davide, buona serata, io invece ti interrompo. Buona serata, prima della pubblicità andiamo con il pensierino di Frediano, di Frediano Boggio. Prof, lo leggi tu, cosa fai? No, 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 Gabriella, Gabriella. No, lo legge il prof, dai. Il prof, va bene. Ma ti anzi in piedi o lo leggi il seduto? No, no, da seduto. Da seduto? Con lo stacchetto però, eh. Prima lo stacchetto e poi il pensierino. Allora, andiamo, dai. Allora, Frediano, quest'oggi ci scrive, non commento la proposta di Monti di sospendere il calcio per due anni. L'importante è che in tal caso ci forniscano il metadone. Nel senso che i tifosi del Toro come fanno a stare senza il Toro? Non possono stare. E a questo punto mi viene da chiedersi, ma è meglio due feriti o un morto? E lo chiederei, chi è che vuole rispondere? No, ti dico, non capisco a tal proposito, la mail che mi ha scritto Renato, l'ha scritta proprio a me, dice, scommetto 1.585.000 euro che la camicia di Fabrizio non è granata. La cifra è casuale. E la cifra è casuale, casuale, vabbè, vabbè, vabbè. E lì a caso. Allora, noi dobbiamo andare in pubblicità, dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo un sacco di domande, anche per lì, insomma, tante cose, ci fermiamo pochi secondi, ma ci fermiamo con una foto, con una foto di un signore, vediamo se qualcuno qui in studio, chi è questo signore qua? Gramellini. Gramellini, gramellini, chissà perché, subito dopo lo scopriamo, ci fermiamo. Ok.